C'è una offerta dall'Associazione Tartufai Il Faggio Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Riccardo che troveremo anche in seguito nella seconda parte C'è una offerta dall'Associazione Tartufai Il Faggio Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Riccardo Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Riccardo Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Riccardo Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Riccardo Allora canetto amico Riccardo Volcaterra mano Allora canetto amico Riccardo Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Riccardo Vecchio scarpone seguito dal mio carissimo amico Riccardo